L'anticiclone africano Caronte, proveniente dall'entroterra tunisino ed algerino, continua ad interessare le regioni italiane. Secondo le previsioni meteo, oggi temperature equatoriali con punte tra le 12 e le 17 di 40 gradi. Allerta del Ministero della Salute in diversi capologhi, tra cui Roma e Bologna. L'ondata di calore, tecnicamente definita di livello 3, proseguirà anche nella giornata di domani. Gran caldo anche in Campania, code di auto su strade e autostrade in direzione delle località balneari, con il mare visto come principale sollievo dalle temperature record. Affollamento sui traghetti destinati verso le isole del Golfo di Napoli e la costiera amalfitana, con tante persone in coda per raggiungere Amalfi o Positano in particolare. Prossima vacanza da Roma. Già conosciuto, già conosce la costiera amalfitana? Due volte, questa è la terza volta. Tante anche le vite del mare sono importanti, insomma, per evitare l'auto. Fare bagno, prendere un po' di sole, mangiare bene, tutto quanto. Dove si va? A Amalfi. Conosce già la costiera amalfitana? C'è stata altre volte di qua? Prima volta. E come mai il traghetto? Perché abbiamo provato il pulma ieri e è stato un disastro. Anche perché fa molto caldo, insomma. Fa molto caldo, sì, almeno uno si siede sopra e prende un po' d'aria. Mi attesto di un po' d'aria pesca. No, è andato un po' di aria. È troppo caldo in questi giorni. Sì, moltissimo caldo fa. Le alternative, insomma, per combattere questo gran caldo, questo caronte, insomma, che ha portato il caldo africano? Bisogna bere molta acqua. E il mare? E il mare no. Il mare si è pulito è bene, ma si è sporco purtroppo. Meglio un po' d'ombra e un po' d'aria. Preferibile. Spiagge stracolme di bagnanti dal nord al sud della costa salernitana, quindi anche nel capoluogo alla ricerca di un po' di refrigerio. Non c'è rimedio, buttarsi in acqua e stare nell'acqua. Insomma, con un bagno autarchico, insomma, con il famoso pennello per i salernitana. Sì, sì, tranquillo, l'acqua è pulita. Così si combatte il caldo venendo al mare. Non è stato in piazza o su una panchina. Purtroppo chi ha il problema? Purtroppo il caldo si combatte venendo al mare. Questo è... Stufo ogni tanto? Stufo ogni tanto, comunque ci rinfreschiamo. Noi ci divertiamo, lasciamo per bene. Non occupiamo né con moto, né qualcuno che noi diciamo che con il motorino qua sopra non ci deve vedere. A piedi, non crede che deve avversare qualcuno. Noi danneggiamo, ci divertiamo e tutta salernata siamo qua. Questo è importante dirlo a tutti quanti. Noi ci venivamo al mare qua. Noi ci mettiamo dall'acqua qua, noi ci alziamo, ci basciamo e questo lo facciamo. Noi pensionati, chi mi fanno oggi? Il pescare sembra... Il pescare è bravo, è il pescare. Solamente noi volessero una sola cosa. Voliamo il mare che adesso è pulito. Pulito e pulito il mare deve essere. Perché qua ogni anno si passa una pallo, l'uno, l'altro, l'uno, l'altro, giustamente. E il mare è sempre così. Questo è quello che noi volessero. Grazie. 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 Grazie.